Atto vandalico e danni della Camera del Lavoro di Ispica, dove è stata ritrovata questa mattina la vetrata frantumata a colpi di pietra. Ancora più grave è stato il ritrovamento, insieme alla macerie dei vetri, di un proiettile a salve in esploso. Non sappiamo di preciso se si tratta di un gesto vandalico fino a se stesso, oppure di un atto intimidatorio rivolto alla nostra organizzazione. Dopo il ritrovamento della finestra vandalizzata e dei proiettile, è stato richiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di Ispica ed è esposto formale denuncia. Alla Camera del Lavoro di Ispica siamo prontamente intervenuti il sottoscritto Giuseppe Scifo e Aldo Mattisi, responsabile organizzativo. Abbiamo parlato con il personale operante nella CGL di Ispica e ci siamo recati alla stazione dei carabinieri per un confronto sull'accaduto con il comandante. Condanniamo il grave atto vandalico e se nel contempo si tratta di un atto intimidatorio, sappiano gli autori che la CGL non si è mai fatta intimidire da atti simili e non lo farà soprattutto in questa occasione. Siamo determinati nel percorso che quotidianamente portiamo avanti in tutte le nostre sedi e nei luoghi di lavoro, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo impegnati su più fronti nella lotta contro le diverse forme di legalità e contro le mafie operanti nell'intero territorio provinciale. Auspichiamo che il più presto sia fatta luce sui responsabili di questo ville gesto. Per questo siamo pienamente fiduciosi sul comportamento delle forze dell'ordine.